Siamo a Casal Pusterlengo all'interno della Sala Consiglio in occasione dell'ultima riunione di monitoraggio PUC che sono i progetti utili alla collettività per quest'anno 2023. Gli incontri che abbiamo realizzato assieme ai miei colleghi e alle mie colleghe sono stati tanti durante questi mesi, non abbiamo mai mollato e in effetti questo è un po' il mio fiore all'occhiello perché è un comune grande, i PUC sono tanti perché sono stati deliberati 5 progetti in settori diversi, i referenti comunali delle attività sono tanti, le assistenti sociali sono tante e quindi abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante che è quello di facilitare la comunicazione tra diversi enti, tra diversi settori e anche tra diverse figure professionali. Inizialmente non nego che c'è stato un attimo di perplessità dovuta non tanto a un essere prevenuti verso questa forma, questa realtà, ma penso soprattutto dovuta al fatto di non conoscere bene di che cosa si trattasse e a che cosa saremmo andati incontro. Poi invece grazie agli incontri informativi che ci sono stati con l'ufficio di piano, con il centro dell'impiego, per l'impiego, quindi realtà che abbiamo conosciuto anche da vicino, è nata proprio la voglia di partecipare, la curiosità e anche devo dire l'entusiasmo di poter fruire di questa opportunità. Secondo me il punto forte di questa esperienza è stata la collaborazione con i colleghi di altri uffici che appunto magari non si incontrano tutti i giorni, la collaborazione con il centro per l'impiego e con l'ufficio di piano e secondo me è stato questo a dare valore e a far sì che poi tutti i progetti e le cose riuscissero bene. Questo incontrarsi una volta al mese ha tenuto vivo il rapporto e quindi è stato bello. Cerco sempre di raccogliere esperienze positive dalle mie giornate lavorative e questa esperienza nuova la porto a casa volentieri con un voto positivo perché mi ha dato la possibilità di conoscere persone nuove e di collaborare con altri uffici proprio direttamente. Io mi occupo dell'ufficio istruzione del comune di Casapusterlengo e sono stato coinvolto nel progetto come referente per l'assistenza al pedibus e allo squalobus. All'inizio ero un po' preoccupato per il discorso orari da rispettare, frequenza giornaliera e anche i documenti da preparare, da aggiornare. Poi però grazie alla collaborazione sia degli uffici comunali che degli altri uffici coinvolti, quindi ufficio di piano e centro di impiego, tutto si è svolto regolarmente in maniera perfetta diciamo. Sì ci sono state alcune difficoltà ma superabili, ecco quindi reputo positiva l'esperienza. Sono l'assistente sociale di ambito e lavoro all'interno dell'equip del contrasto alla povertà dall'ufficio di piano. Quando sono arrivata qui in comune a Casale i lavori erano già iniziati e per me inizialmente è stata una sfida ma posso dire di aver trovato un contesto lavorativo estremamente dinamico e collaborativo che mi ha permesso di abbinare numerosi dei miei beneficiari e dei progetti all'interno del comune e che mi ha permesso anche di creare un ottimo rapporto professionale con le colleghe assistenti sociali del territorio che ci permette ad oggi di lavorare in maniera dinamica e collettiva su numerosi progetti dei residenti nel comune di Casal Pusterlengo. Vi racconto l'esperienza positiva di un PUC che ho attivato personalmente e direttamente di questo beneficiario che si è anche autocandidato rispetto al progetto essendo percettore di reddito di cittadinanza ma che ha voluto comunque contribuire al decoro del suo paese e quindi insieme abbiamo iniziato questo progetto avendo rimandi positivi rispetto alla cittadinanza comunque che è soddisfatta di come si rapporta con le persone perché è sempre sorridente, allegro, disponibile ma anche proprio rispetto al suo lavoro che a volte gli esula anche da quelle che sono le sue attività perché comunque è una persona propositiva che si adatta anche alle varie richieste che gli vengono fatte quindi sono mesi che sta andando avanti e questo è stato anche un po' uno stimolo per lui per ragionare su possibili lavori futuri, attività future avendo voglia di rimettersi in gioco magari nonostante un lungo periodo di inattività. Io sono la responsabile dei servizi demografici del comune di Casal Pusterlengo, abbiamo denominato questo progetto Anagrafi Accogliente. È iniziato nel mese di maggio 2023 ed è tuttora in corso accogliendo una persona che svolge 16 ore settimanali mostrando grande impegno e volontà. Soprattutto dal mese di luglio questa cittadina non percepisce più il reddito di cittadinanza e nonostante questo tutti i giorni viene a darci una mano per aiutare il nostro servizio. Il progetto è risultato per i servizi demografici molto positivo in quanto oltre a rappresentare un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività ha contribuito ad un supporto dell'attività amministrativa del servizio e quindi dell'ente.